Salve a tutti in questo ultimo video del corso di PowerPoint 2019, vediamo le animazioni, qualcosa della visualizzazione e poi vedremo come salvare il nostro progetto. Quindi concluderemo qui il corso, poi ci saranno dei singoli tutorial sulle singole funzioni, alcune di queste ne abbiamo già viste, però le faccio per chi cerca semplicemente una determinata cosa su PowerPoint e non vuole vedersi un corso completo. Quindi vediamo subito, allora io qua ho creato un elemento, quindi una faccina, un titolo e un sottotitolo, sono tre elementi diversi perché sono due caselle di testo e una clipart per così dire, un'icona chiamata così. Allora come facciamo per animarle? Allora innanzitutto noi magari vogliamo che la prima presentazione ci presenti prima questa senza animazione, poi un'animazione del titolo e poi un'animazione del sottotitolo. Quindi cosa facciamo? Questo elemento lo ignoriamo, clicchiamo qua sul titolo, quindi assicuriamoci di aver evidenziato la casella di testo e su animazioni cerchiamo quella che ci interessa, quindi dissolvenza, entrata veloce, comparsa, le possiamo cliccare, vediamo l'anteprima, fasce. Ce ne sono altre qua, guardate, questo addirittura riempie proprio il colore, questa è la trasparenza, illuminazione, annulla colore, ingrandimento, eccolo qua. Quindi lasciamo rotazione ad esempio, ecco qua, facciamo un titolo di rotazione, vediamo che qua è stato applicato un 1 e qua è stato applicato una stellina, la stellina vuol dire che ci sono elementi con animazioni all'interno della diapositiva. Adesso clicchiamo su sottotitolo e animiamo questo, sottotitolo facciamo ad esempio una spirale, bene. Adesso vediamo che il simbolino è sul 2, quindi vuol dire che prima verrà riprodotto questo e poi verrà riprodotto questo. Poi vedremo anche come invertire l'ordine. Allora, clicchiamo su anteprima diapositiva, cioè avvio dall'inizio, ed ecco qua, allora come mai il titolo... Ok, allora l'effetto che abbiamo fatto, che abbiamo applicato, non era un effetto di comparsa ma solo di animazione, quindi andiamola a cambiare, mettiamo un effetto di comparsa. Ecco, adesso le cose cambieranno, riproviamo. Ecco fatto, allora, questo è come lo volevo. L'icona è già presente sulla diapositiva, adesso al click del mouse sinistro compare il titolo. Ecco fatto. Altro click compare il sottotitolo. E siamo a 2, non ci sono più animazioni, quindi prossimo click ci restituirà la prossima diapositiva. Ecco fatto, semplicissimo. Ora torniamo qui e vediamo che cosa possiamo fare con questi elementi. Allora, intanto li possiamo cancellare, quindi vado al sottotitolo, clicco sul numerino e poi tasto ganch o del della tastiera, effetto eliminato, c'è rimasto solo il titolo. Quindi adesso se riproduco ci sarà solamente questa e questa già presenti e poi arriverà il titolo. No, questa animazione, sbagliato. Ecco qua, vedete? Clicco e viene il titolo. Altra cosa che possiamo fare, evidenziamo titolo, possiamo applicare un... Allora, intanto inizia al click del mouse, durata, ritardo, queste sono cose che possiamo cambiare, riquadro animazione. Qua possiamo scegliere l'ordine e la riproduzione dei suoni, ad esempio, se io clicco qua con la freccettina, c'è opzioni effetto, ad esempio, e qua posso metterci un segnale acustico, quindi audio, posso metterci click. Ok. Questo è l'anteprima. Se adesso riproduco dall'inizio, al click sentiremo anche l'effetto audio, insieme all'animazione. Ora creiamo nella seconda diapositiva più elementi. Quindi, qua c'è una casella di testo con un prova, aggiungiamo una forma, un rettangolo, poi aggiungiamo un'icona. Ecco qua. E poi aggiungiamo un altro testo, quindi un'altra casella di testo. Fine. Metto. Ok. Allora, adesso che cosa facciamo? Animiamo prima il prova, quindi andiamo in ordine, possibilmente, animazioni. Mettiamo una dissolvenza. Poi questo quadrato, mettiamoci una cascata. E siamo a 2. Poi 3 è la valigia, spirale. Va bene. E poi fine. E siamo a 4. Zoom. Ok. 1, 2, 3 e 4. Questo è l'ordine di arrivo. Adesso, nel riquadro animazione, vi faccio rivedere come si apre da qua, possiamo cambiare l'ordine. Quindi, il 3 lo prendo e lo trascino sotto. Ed ecco che cosa succede. L'elemento grafico diventa l'ultimo, il quarto. Lo riprendo e lo rimetto qui. Sopra il 3. Diventa terzo. Lo prendo e lo metto in cima. Diventa il primo. Capito? Quindi qua possiamo cambiare tranquillamente l'ordine di animazione degli effetti. Quindi, molto molto semplice. Mi sembra abbastanza facile da imparare. Adesso vediamo il visualizza. Visualizza. Qua ci sono varie cose che possiamo fare. Vediamo giusto le visualizzazioni della presentazione. Qua possiamo cambiare la visualizzazione della struttura. Qua per sequenze diapositive. Pagine note. Visualizzazione di lettura. Qua possiamo poi tornare a un'altra cliccando qua giù. Eccetera eccetera. Qua abbiamo lo zoom. 66, 100, 66 mettiamolo. Oppure rimettiamolo a 100. Adatta alla finestra. Eccetera eccetera. Bene. Quindi adesso quando abbiamo finito la nostra presentazione cosa facciamo? La possiamo salvare in un file. Quindi file. Salva con nome. Facciamo sfoglia. E qua possiamo dargli il nostro titolo. Di base salvato come presentazione standard di PowerPoint. Questo è il file che si apre in PowerPoint. Possiamo anche salvare un video. Attenzione. Guardate qua. Ad esempio. Si può salvare in tanti modi. Però il video è interessante perché comunque rimane animato. Quindi video MPEG 4. Proviamo. Titolo. Salviamo. Aspettiamo che qua sia completata la creazione del titolo .mp4. E vediamo poi come si presenta. Quindi ecco qua. Siamo entrati nella mia cartella di prova. Questo è il file mp4 che è stato creato. Apriamolo e vediamo cosa succede. Guardate. In automatico c'è la riproduzione delle animazioni. Non si può cliccare niente ovviamente perché è un video. Fine. E qua ricomincia perché ho messo in loop il video semplicemente. Attenzione non vuol dire loop messo da PowerPoint. Loop l'ho messo dal programma di visualizzazione del video. E niente. Quindi avete visto anche come creare un video. Poi farò un video a parte solamente su questo. Perché molte persone magari non sanno che si può creare un video con una presentazione. PowerPoint. E ovviamente il video può essere visualizzato da chiunque abbia un qualsiasi programma di riproduzione video. O mp4. Quindi anche chi non ha PowerPoint può riprodurre le depositive come un video. Bene. Quindi spero che questo corso vi sia stato utile. Ci vediamo nei prossimi video dove tratteremo singole funzioni di PowerPoint. Ci vediamo alla prossima. Grazie. Grazie.